Se la creazione che vediamo è così affascinante, cosa ci aspetterà nell'altra dimensione dove tutto è molto più sublime e non morrà mai? Quanto è grande l'opera del Creatore! È indescrivibile, profondamente meravigliosa. Se smettessimo di pensare sempre ai nostri limiti e alle nostre fragilità per confidare completamente in Dio, anche la nostra vita terrena sarebbe assai diversa. Dio non vuole che viviamo nell'ansia o nella paura. Ci ha creati per conoscerlo e si può sempre riconoscerlo anche nella sua stupenda creazione. Quando ci tuffiamo in Lui, dimentichiamo noi stessi. Egli conosce bene le nostre fragilità. È sufficiente che ne siamo consapevoli, ma poi vuole che ci fidiamo di Lui e che Lo adoriamo nei nostri cuori sinceramente ammirati della Sua grandezza e della Sua umiltà. Ma soprattutto desidera che crediamo nel Suo amore per noi, nonostante le tempeste della vita.